Il nostro Samsung Dowda vincitore dell'Arnold Classic 2023 ha pubblicato nei giorni scorsi questa posing routine, anzi questo guest posing, che è praticamente molto simile alla routine che ha fatto all'Arnold Classic e devo dire che ci mette davvero poco a riprendere quel filo di grasso corporeo in più e secondo me questo è uno dei suoi problemi principali, il fatto che ancora non abbiamo visto bello definito scartavetrato diciamo, però a parte questo la domanda è, è lui il pericolo principale per il mister Olimpia? Perché secondo me ormai è appurato che i giudici preferiscano lui rispetto a Nick Walker se ha vinto l'Arnold Classic, comunque con una definizione inferiore rispetto a Nick io dico da mesi, da prima del mister Olimpia che secondo me Samsung sono dei bodybuilder più completi a parte i dorsali un po' così così che dovrebbe aprirsi un po' di più e la definizione che secondo me è migliorabile però a questo punto mi chiedo, avendo battuto Nick Walker e nel caso delle Clansford e Adichupan non arrivassero al top potrebbe inserirsi nella top 3 e fare questo passo da gigante rispetto al mister Olimpia cioè guadagnare tre posizioni, secondo me sì, io credo che lui sia il tipo di bodybuilder che i giudici vogliono tornando indietro nel tempo a un fisico che ricorda un po' Sean Roden, cioè la massa con l'estetica ricorda anche un po' Brandon Curry, a parte le gambe si intende, perché Brandon Curry non avrebbe le gambe se dovessi paragonare Dauda a Brandon Curry, la parte superiore va sicuramente a Brandon Curry se avesse avuto le gambe sarebbe mister Olimpia da 3-4 anni, secondo me fisso, senza stravolgimenti ai piani alti questo è quello che credo io su Brandon Curry, secondo me i giudici, la FB con Sean Roden voleva aprire un nuovo ciclo che poi ha più o meno continuato con Brandon Curry e poi si è interrotto con Big Rami però il tipo di fisico che vogliono è questo qui, un fisico alla Samson Dauda, un fisico alla Sean Roden un fisico alla Brandon Curry, a parte le gambe si intende come detto e il Mister Olimpia su Instagram ha pubblicato quest'altro aggiornamento di Samson Dauda di qualche giorno prima rispetto a quel guest posing, molto convincente, devo dire, come ho detto all'inizio del video secondo me ha bisogno di un po' più di dorsali e di una definizione superiore è fattibile che possa battere un Adi Chupan? Non credo, perché Adi porta una definizione davvero stellare con un ottimo posing e a Samson manca quella definizione, quel passo in più secondo me porta una definizione, non dico sufficiente, però poco sopra la sufficienza e delle Clansford, Adi Chupan sono davanti a lui perché porta una definizione che non è che è sufficiente è ottima, è stellare quasi direi però io penso che possa davvero far male lo dico da mesi, secondo me è davvero un bodybuilder fantastico però c'è da limare alcuni aspetti definizione, dorsali, secondo me poi magari la pensate diversamente da me non credo che possa vincere il Mister Olimpia delle Clansford secondo me è davanti soprattutto per definizione però delle Clansford mancano le gambe quindi non lo so, cioè mancano le gambe deve portare avanti le gambe quindi non lo so, vedremo un po' che succederà al Mister Olimpia perché Adi Chupan, The Clansford e Samson Dauda sono qualificati così come Brandon Curry e Big Ram però lo vedo tranquillamente avanti anche Nick Walker è qualificato nel senso avanti rispetto all'anno scorso però vedremo un po' che succederà in questi mesi sino al Mister Olimpia che se non sbaglio quest'anno si terrà a novembre e non a dicembre buona? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501